Il sindaco Adamo Coppola ha firmato un'ordinanza che regolamenta gli accessi agli sportelli e agli uffici comunali da oggi, mercoledì 6 maggio e fino a nuovo provvedimento. L'accesso è consentito per le sole procedure essenziali e non rinviabili, mentre per le altre esigenze l'ingresso sarà permesso previo appuntamento, che potrà essere richiesto telefonicamente o tramite posta telefonica certificata ai recapiti relativi ai rispettivi uffici. Questo al fine di ridurre, quanto più possibile, il rischio legato all'emergenza epidemiologica da Covid-19. Nell'ordinanza sono specificate le modalità di accesso e indicati i numeri telefonici da contattare e le email. È possibile scaricare l'ordinanza integrale sul sito del Comune di Agropoli all'indirizzo www.comune.agropoli.sa.it